ciao a tutti e bentornati la ricetta di oggi sono le crepes alla nutella gli ingredienti che ci serviranno sono 500 grammi di latte io utilizzo quello alla soia 200 grammi di acqua 250 grammi di farina io utilizzo la farina integrale di timilia 4 uova 50 grammi di burro e una bussina di vanillina per dare l'aroma e un pizzico di sale e in un'insalatiera inseriamo le uova il grammi di latte l'acqua la vanillina il burro e per finire la farina un pizzico di sale ed ecco pronto il nostro composto per le crepes mettiamo sul fuoco una padella antiaderente aggiungiamo un pizzico di burro e passiamo un po' di carta assorbente in modo da togliere il burro in eccesso così versiamo con un mestolo il composto lo stendiamo lo stendiamo lo stendiamo lo stendiamo A presto. A presto. Dopo aver preparato tutte le crepes, spalmiamo all'interno la nutella. E la pieghiamo così. Oppure ripiegarla così. Per finire, dello zucchero a bello. E la pieghiamo. E la pieghiamo. Grazie.